Un saluto a tutti amici di Telebambu.tv e amici visitatori. Eccoci qua in un altro nuovo filmato, spero sia inoltre anche questo, non vorrei essere di scocciatura però, per informarvi che oltre a Telebambu c'è anche Telefed del nostro amico Federico Zanchetta, se volete, che collabora con noi con Telebambu.tv, chiaramente, per qualsiasi servizio di informazione oppure da reporter, contattateci, siamo qui per voi, per offrirvi servizi video, oppure per fare spot o interviste, contattateci, siamo a vostra disposizione, per qualsiasi cosa, anche per qualsiasi evento, siamo qui a pubblicizzarvi e fare pubblicità, a promuovere l'evento o la vostra manifestazione. Telebambu, WebTV o Telefed, contattateci, siamo qui per voi. Ricordatevi amici visitatori, Telebambu, WebTV o Telefed, siamo qui per voi, contattateci. a vostra disposizione. Un saluto e ai prossimi video. Ciao! Un abbraccio a tutti. Seguiteci sempre. Telebambu, WebTV e Telefed WebTV. Ciao! Un abbraccio. Ciao a tutti. Seguiteci sempre. Telebambu, WebTV e Telefed. Ciao! Un abbraccio. Vi auguriamo una buona visione con i nostri video. Ciao! Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Grazie a tutti